ci siamo riusciti adesso sto filmando diciamo che si è andata anche un po di culo è che sei riuscito a tirar giù il pignone ma adesso lo dobbiamo passare ancora tutti quel pezzo di passare basta stare a sinistra e ruggiamo un pezzino bello tosto un po' Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti